Le aziende del Lazio vogliono misurare il loro livello di produzione sostenibile. Oggi all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS abbiamo lanciato la seconda edizione del nostro rapporto. Invitiamo tutte le aziende associate e non a visitare il nostro sito, la homepage di un'industria, dove troverete il questionario. Aiutateci ad allargare la mappatura e la fotografia della produzione sostenibile del Lazio. Grazie per la visione!